Chi siamo? Fridays for Future! Cosa vogliamo? Giustizia climatica! Quando lo vogliamo? Ora! Noi chi siamo? Fridays for Future! Prima è cambiato tutto, tantissimo. Prima va bene, ma adesso con il tempo è cambiato. Non è caldo, non è acqua, non vengono più. Non viene più acqua? Sì, ma quando vengo magari una settimana o due mesi, prima sei mesi o sette mesi o otto mesi, ma adesso uno mesi o due mesi. Questo non va bene, anche il mare. Non va bene per cultura, non va bene per tutti, no? Prima anche il mare, poi devi andare lì, devi prendere tante roba di lì, anche come un busto, quello di loro buttare lì dentro. Magari secondo me... Buttare cosa? Buttare... tante cose buttare dentro l'acqua. Plastica? Come plastica, no? Sì. Poi le loro peste per mangiare è morte. Sì. Non lo so come vuol dire italiano. Sì. Sì. Sì.